il resto delle gare come abbiamo affrontato questa gara di oggi se vogliamo fare qualcosa di veramente importante ha fatto un girone ad andata un bel giro di andata sarebbe un peccato non buttare punti così si vittoria vittoria meritata anche perché eravamo carichi di motivazioni venire qui a san francesco cioè non penso che una partita una partita così come l'altra una partita comunque importante una grande cornice di pubblico e quindi le motivazioni che hanno fatto sì abbiamo vinto oltre che una bella vittoria diciamo è stata anche preziosa anche perché mi rilancia nella zona playoff dalla sconfitta tra l'altro dell'altro c'è solo un punto che mi separa ottimo ottimo domenica prepariamo questo scontro diretto l'altra domenica dopo la sosta speriamo bene il momento difficile che voi avete avversato nel quest'ultimo scorcio di campionato comunque può essere per voi da insegnamento per le vostre mattine perché comunque ci vedete della prova nella zona playoff sì sarebbe perché non crederci sarebbe un peccato siamo lì possiamo giocarcela con grandi squadre perché non provarci quante volte le sognate domenica così tante tante volte ancora non ci credo qualche dedica particolare alla mia famiglia e alla squadra non ci credo